Benvenuto, Marcus. Grazie mille. Quali sono le tue emozioni di essere arrivato all'Inter? Molto contento, molto contento di essere qua. Oggi è un grande giorno e sono molto contento. Marcus, sei nato in Italia e da sempre sei legato al nostro paese. Cosa rappresentano per te il calcio italiano e la Serie A? La Serie A è il campionato che ho visto quando ero piccolo con tutti questi grandi giocatori. Allora, rivenire in Serie A è un po' come rivenire a casa e sono molto contento. Allora, non sarai il primo Turam a giocare in Italia. Quanto è stato importante l'esempio di tuo padre e ti ha dato qualche suggerimento per affrontare il campionato italiano? Il campionato italiano penso che ha molto cambiato da quando giocava perché era un po' tanto fa, tanti anni fa. Ma mi ha detto i consigli di un padre di giocare con gioia, di profittare, di essere contento di essere qua, che oggi il mio sogno diventa realità e di vivere ogni momento come si fu il primo. Sei riduce tra l'altro da quella che forse è stata la tua migliore stagione, è anche giocato la finale del Mondiale. Cosa ti aspetti adesso da questa nuova avventura nera azzurra? Spero che potrei fare molti gol questa maglietta, spero di profittare molto e spero che vinceremo tante partite. Facciamo adesso un tuffo nel passato. Hai detto che quando eri piccolo Ronaldo il fenomeno era uno dei tuoi idoli. Che effetto ti fa poter giocare con la sua stessa maglia e quanto ti sei ispirato a lui nella tua carriera? Penso che ogni giovane giocatore un giorno ha voluto essere Ronaldo. È un sogno giocare nella stessa maglietta che lui, nel stadio che ha giocato. Allora non posso immaginare le emozioni che avrò quando giocherò. Ultima domanda che ti faccio. Hai già giocato San Siro contro l'Inter ma lo stadio era vuoto. Quanto sei impaziente adesso di iniziare a giocare davanti ai tuoi nuovi tifosi? Hai un messaggio per loro? Molto. Sono molto in pazienza. Anche sono andato su YouTube ieri sera per guardare un po' com'erano le partite allo stadio e ai tifi gli dico di aspettarmi che arrivo. Grazie e benvenuto Marcos. Grazie, grazie.